I casi di coronavirus in aumento in tutta Italia, l'incognita rappresentata dalla variante Omicron fanno tornare l'allarme anche nel mondo del calcio. La Salernitana ad esempio non è potuta partire per Udine dove oggi alle 18.30 era attesa dalla squadra di Cioffi per il turno infrasettimanale. La squadra sarebbe dovuta partire nel pomeriggio di ieri ma l'azienda sanitaria ha disposto il divieto assoluto di trasferimento in Friuli con volo di linea. Il gruppo squadra si è sottoposto a un altro giro di tamponi molecolari che hanno confermato la positività emerse. La decisione ufficiale di non partire quindi. La decisione è stata ufficializzata dal club campano nella notte. In Serie B intanto è stata inviata per Covid Lecce-Vicenza. La gara era prevista lunedì 20 dicembre alle 20.30 come posticipo della diciottesima giornata. Questo è il comunicato della Lega di Serie B. Preso atto della comunicazione dell'azienda sanitaria di Lecce avente oggetto attestato di quarantena collettivo con divieto di spostamento con la quale il Dipartimento di Igiene ha disposto per i salentini la quarantena fiduciaria al domicilio con divieto assoluto di spostamento per i soggetti qualificati. La Lega di B ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Lecce-La Nerossi-Vicenza.